Vediamo questa volta invece come calcolare il tasso annuo effettivo globale, quindi il nostro TAEG, di un mutuo a tasso variabile con Excel, quando il tasso non è noto. Mi spiego meglio. Allora, nel precedente video abbiamo visto come sviluppare il piano di ammortamento e calcolare la rata di un mutuo a tasso variabile, però in quel caso erano noti i tassi. Mentre nella pratica ho pensato che forse può essere più utile, sono utili entrambi naturalmente, ma supponete il caso più frequente in cui voi avete i piani di ammortamento di diverse banche e molto spesso non è il tasso l'elemento che più è in vista, ma sono le rate, la successione degli importi. Oppure, viceversa, in un mutuo esistente avete una successione di rate che ben conoscete perché sono quelle che pagate alle varie scadenze, ma non sapete qual è il tasso effettivo. Allora, forse questo ultimo progetto può esservi maggiormente utile. Andiamo subito al dunque. Allora, nel foglio 1, andiamo passo per passo, procediamo, per cui se no... Questa volta allora introduciamo la rata, supponiamo 415 euro. Non sappiamo qual è il tasso, allora come si fa a calcolare il tasso? Prima di tutto dobbiamo distribuire le nostre 360 righe perché ci servono le 360 periodi, in questo esempio sono 30 anni, mutuo di 30 anni e 12 periodi per anno, cioè 12 mesi, quindi sono 360 mesi. Voi potete adattare questo modello naturalmente anche dei semestri o dei trimestri, basta modificare questo, questo non è un euro, cambiamolo, non è un euro ma è un numero, quindi 12, se sono semestri sarà 2 periodi di anno, se sono trimestri saranno 4 e così via. E le righe in quel caso saranno non più i mesi ma saranno i trimestri, i semestri. Ok, in questo caso troviamo il nostro esempio che è mensile, allora qui in cella A14 scriviamo semplicemente A13 più 1 e poi copiamo questa semplice formuletta nelle altre 359 righe fino alla 373, dovrebbe essere, eccoci qua, incolla, ok. E abbiamo i 360, questo è importante perché la formula che adesso andiamo a introdurre nella cella F1 non sarà più la funzione rata, come nell'altro video, ma sarà tasso. Ok, allora scriviamo uguale tasso, tasso, parentesi, primo argomento sono i periodi, i periodi saranno sempre la moltiplicazione dei 12 periodi per 30, anche il 30 va modificato, non è un euro lì, sono un numero. Allora sarà dollaro C dollaro 7 per dollaro 9 e quindi sarà i periodi. Poi il secondo parametro sono i pagamenti, quindi è la rata, la mettiamo con segno negativo però, per ragioni di equivalenza finanziaria, nelle formule di Excel per chi non lo sa occorre inserire o la rata o il capitale con segno negativo se no vengono dei risultati inattesi. Allora quindi sarà B13 senza riferimenti assoluti perché poi la copiamo e poi il valore attuale sarà il nostro E13, cioè il capitale residuo e 13. C'è una modifica però da fare subito perché bisogna copiare, pardon, la rata non è al posto giusto, è nell'1, ok? Ecco, quindi bisogna cambiare praticamente la formula, ecco cioè io ho inserito al posto dei periodi, cioè come fisso, una formula che conta numeri. In sostanza anziché calcolare su tutti i 360 ogni periodo si calcola sui periodi rimanenti, quindi sarà il primo periodo 360, il secondo 359, poi 358 e così via. Per fare questo inseriamo, edifichiamo una funzione che si chiama contanumeri e poi adesso la copio qui dal foglio definitivo che mi conta praticamente quante sono le righe dal periodo corrente fino in fondo, faccio un copia e poi lo incolliamo qui al posto dei 360, ok? Meno B13, E13, ecco poi in fondo bisogna praticamente moltiplicare per C9, cioè per i periodi, no? Perché questo sarebbe un tasso mensile, noi lo vogliamo annuale, annualizzato, no? Ok? Quindi ripetiamo allora, il primo argomento sono i periodi, al posto i periodi ho messo la funzione che mi conta appunto i periodi rimanenti, no? Quindi quando la copio della formula mi darà 360, 359 e così via, decrescere fino all'ultima che sarà 1. Però io calcolo questo tasso non su tutti i 100.000, li calcolo sul residuo precedente, quindi solo dal primo rigo sarà 100.000, l'ultimo sarà il residuo finale, cioè quello precedente all'ultima rata. Poi moltiplico per 12, ok? Viene fuori un tasso del 2,88. Quindi se inserisco una rata differente il tasso cambia naturalmente, quindi adesso ho il tasso che mi viene calcolato dalla formula periodo per periodo in base a quello che io metto come rata. Quindi voi introducete le rate effettivamente pagate alla banca, anche compreso le commissioni, naturalmente perché il tasso, il TAEG, la differenza tra TAEG e tasso nominale, il TAN, è che il TAEG è quello effettivo, quindi praticamente se avete delle spese accessorie, le commissioni vanno assolutamente inseriteli e la somma ottenuta dalla banca va al netto di eventuali deduzioni e spese iniziali che vanno rifalcate dalla somma che effettivamente vi viene finanziata. Solo a quel punto potete avere un parametro di riferimento valido per tutte le varie offerte, omogenee. Quindi in questo caso, questo ripetiamo, non è un tasso nominale ma è sempre un tasso effettivo, proprio perché utilizziamo la funzione tasso di Excel, quindi è un tasso effettivo che pone in equivalenza finanziaria le due somme, cioè la somma che vi viene finanziata e le rate che viene impulsate nel tempo. Allora a questo punto basta copiare le altre formulette, quelle dell'interesse e del capitale, l'interesse è calcolato detraendo dalla quota della rata, cioè, perdono, l'interesse è calcolato moltiplicando il tasso che abbiamo trovato per il residuo e poi diviso per 12, mentre la quota capitale è ottenuta per differenza dalla totale rata meno la quota di interesse. Quindi qua mi copio le tre formulette, il residuo e naturalmente sarà il residuo precedente meno la quota di capitale della rata in corso, mi dà il nuovo progressivo. Quindi adesso io mi copio le tre formulette qui, le riporto nel foglio qui ed ecco abbiamo un residuo di 99.824 euro. A questo punto le formule sono corrette, c'è soltanto il tasso, la rata per adesso supponiamo che sia fissa, poi tra un po' vi farò vedere come modificare le rate. Allora questa volta copiamo queste formule qui, anzi tutte compresa quella di colonna A, perché mi fa il progressivo, e le copiamo sulle altre 359 righe. Dobbiamo avere un saldo 0 alla fine. Allora ok, eccolo qua. Incredibile, al primo colpo. Allora ok, abbiamo residuo 0 e il tasso naturalmente è sempre lo stesso, perché la rata è sempre la stessa. Adesso metto in pausa perché vi faccio vedere cosa succede modificando le rate. Ecco, niente, è più veloce ragionando adesso sul foglio definitivo. Allora, in pratica, dopo il sesto periodo, qui viene fatta l'ipotesi che viene fatto un imborso di 25.000 euro. La formula che calca il residuo fa un'ulteriore cosa, cioè detrae l'eventuale importo che figura nella colonna G, cioè quella di rimborso anticipati, sempre che il contratto lo preveda naturalmente. Tenete presente nel caso del CAP, cioè il limite al tasso, sapete che in quelle offerte bancarie quando c'è un limite al tasso variabile, poi naturalmente lo spread è più elevato e chiaramente la banca, questo è un interdiscorso, ma comunque qui viene già incluso perché praticamente inserendo le rate effettive ti si tiene conto di tutto e quindi viene fuori, quindi anzi potrebbe essere a maggior ragione uno strumento per calcolare se la banca si comporta correttamente. Allora, qui è stato rimborsato un importo di 25.000 euro alla sesta rata e quindi chiaramente la rata deve diminuirsi e quindi passa a 310. Il tasso è praticamente equivalente di 88-87. La vera modifica viene fatta dopo i primi 5 anni, cioè dal 61esimo, ecco, la rata passa a 312, il tasso vedete si modifica automaticamente, che è sempre calcolato sul residuo, l'ultimo residuo, vedete, 66.000 e sui periodi, cioè non sui 360 in questo caso, ma sui 300 periodi rimanenti. E il tasso passa dal 287 al 293. Allora, poi ho preparato, quindi in fondo avete, adesso ci sono tutte le varie rate, rate 312, 317, aumenta per poi aumentare ancora 323 dopo il decimo, quincesimo anno e poi si riduce a 311. Sono sempre simulazioni. Il bello di questo strumento è che voi qua non dovete preoccuparvi del tasso, ma inserite esattamente le rate che avete pagato, compreso le commissioni e quindi automaticamente vi spara fuori il costo effettivo del mutuo. Ok, andiamo in fondo e avremo sempre 0, quindi va bene. qui ci sono le sommatorie delle rate, sommatorie di interesse, sommatorie di capitale più il rimborso e quindi quadra. Allora, la routine VBA che serve per aggiornare qui la tabellina è semplice, basta andare su sviluppo oppure alt F11 per andare nell'editor VBA. Qui c'è comunque, ve la commento. Allora, non è tanto lunga. Che cosa fa questa routine? Definisce alcune variabili, ok? La più importante è la tipa e il range. Poi vengono fatte subito due cose. Viene selezionata l'area dati, cioè le 360 righe, da 14 a F33. Poi viene cancellata, cioè svuotata la tabellina in alto e poi si imposta set t uguale selection. Selection sarà selezionata perché è stato fatto un select prima, no? Quindi in T c'è il range delle 360 righe e 6 colonne, ok? Poi viene letto nelle variabili, il numero delle righe, il numero delle colonne e viene a prepararsi al ciclo. Viene impostato il primo valore, cioè praticamente il primo tasso che sarà quindi 1 e 2,88 vanno qui a finire sopra. Dopodiché viene ciclato tutto l'intervallo delle 360 righe e soltanto quando è differente dal precedente, cioè dal tasso, si va a valutare il tasso, cioè la colonna F, no? Quindi 2,88, la seconda volta è uguale? Sì, allora non vanno a stare a riportare. Quando incontra un tasso significativamente diverso, cioè a meno di due cifre decimali, perché in realtà tenete presente che qui vedete dei tassi uguali, ma ogni calcolo sono differenti perché chiaramente la funzione del tasso riporta tutti i decimali, no? Allora ho utilizzato la round, la round ha due decimali, round per cento perché chiaramente il valore è 0,0288 mentre li compare per via della formattazione in forma percentuale. Quindi in sostanza confronto ogni valore di riga con l'espressione arrotondata a due decimali di quello che avevo già riportato sopra e se quando è diverso lo riporto altrimenti. Quando lo incontro, aumento di 1 l'indicatore Y che mi fa avanzare qui dal F5 all'F6 e la cosa bellina è che mi riporto anche il numerino del periodo, poi 1, cioè praticamente 1, poi 61, poi 121, quello che è. Si può anche far visualizzare la data facilmente, al posto del periodo si mette la data e quindi è la stessa cosa. Facciamo il CTRL T, come si fa a fare CTRL T? Sulle macro c'è aggiornatarsi, opzioni, qui c'è, si inserisce il T, quello che volete, in questo modo si può richiamare in quel momento con il CTRL T, lo faccio adesso, tabellina tassi aggiornata. Quindi lui mi ha andato a ciclare tutti i 360 le righe e qui mi ha riportato alle varie decorrenze, i vari tassi calcolati, il TAEG. Ok, per quanto riguarda l'argomento TAEG effettivo e il suo moto tasso variabile ci fermiamo qui.